In 1930 è successo questo, hanno stabilito una serie di contratti, convenzioni internazionali che hanno determinato degli strumenti precisi che poi gli stati aderenti hanno adottato, anche l'Italia insieme ad altri 41 stati, fra cui il Brasile, l'Ucraina, l'Inghilterra, il Canada, tutti i diversi europei, hanno acquisito nel loro regolamento, nella loro legislazione nazionale, il dettato di questi trattati internazionali. Uno dei più importanti di interesse bancario era quello che era relativo alla cambiale. La cambiale, nonostante poi tutte le trasformazioni indotte faziosamente dalle banche nel corso dei decenni, non è quella che oggi conosciamo noi, che t'hanno detto le banche che sono quelle che vanno messe a utilizzare, è tutt'altra cosa, perché anche lì le banche hanno messo al lavorio i loro avvocati, i loro, come si dice, butta dentro, hanno modificato, travolto e stravolto tutto quello che era il dettato originario. Allora, io sono andato invece a recuperarlo. Però, per quanto riguarda gli aspetti nazionali, ragazzi, noi ci interessa, siamo d'accordo, noi ci interessa, è una cosa pratica, come applicare? Allora, se non ci arriva, porco giù, da come fai a arrivare? Aspetta un attimo, allora, quindi noi è bene che sappiamo che la cambiale è uno strumento a disposizione di tutti e non obbligatoriamente bancabile. La banca può eventualmente scontarlo, se uno vuole va lì e gli dice, io le do un credito che ho io, me lo cambi? Lui dice, le date 1000 euro che c'è scritto sulla cambiale, la banca le ne dà 900, perché a 4 mesi, a 6 mesi, a un anno, di più, di più, di più, facciamo perdere. Allora, e però tu prendi i soldi. Ok, diventa un credito bancabile però, o vendibile. Vendibile, tutti i crediti sono vendibili. O posso anche vendere a un privato? Tutti i titoli sono vendibili. O posso vendere anche a un privato la cambiale? Chiunque, chiunque, allora la cambiale di per sé è una moneta, è un titolo, essendo un titolo è bancabile ed è negoziabile con chiunque, ok? Quindi ecco perché la cambiale la giri e la cambia dove cazzo te pare, se tu sei disponibile ad accettarlo... Ok, ma l'emissione dei cambiali è regolamentalizzata? Allora, c'è la legge, il reggio degredo 1699 del 33 che recepisce questa convenzione internazionale del 1930. Le cambiali quindi sono una moneta cartacea a tutti gli effetti, che però invece di emettere questo sito di sultana di tre bicee, la emetti te, io, lui, tutti quanti. Allora, come funziona? Nella regola normale, nella prassi normale, uno c'è il traente e il trattario, il traente è quello che la prende e il trattario è quello che la firma, ok? Nella cambiale c'è scritto l'impagabile presso, lì ci puoi mettere qualunque indirizzo vuoi. Ci metti l'indirizzo della banca, tu la porti in quella banca e ci metti l'indirizzo in quella banca. Se però tu non la vuoi mettere in banca, lo barri, non ci metti un cazzo e non la banchi da nessuna banca. E allora può essere bancabile solo a rete dei cittadini? Esatto. E così non è più bancabile in banca? Esatto. Perciò, però dillo subito. No, però nessuno vieta che la cambiale possa essere scarabocchiata, però tu sai bene che se una cambiale viene scarabocchiata ci vede essere la firma del traente originario. Per cui se uno modifica una cambiale è perseguibile realmente, a meno che non l'abbia corretta lui che l'ha emessa. Quello che l'ha emessa, ma ci deve essere messa la firma. Già rispondendo alle domande che non l'abbiamo ancora fatto, però. Sì. Perché? Allora, arrivo. La cambiale, quindi, essendo moneta, può circolare liberamente dappertutto. L'unico problema è che la legge bancaria della raccolta del credito dice che non ci possono essere monete alternative alla moneta a corso forzoso. per cui, se trovi qualche testo di cazzo di quelli faziosi, c'è il rischio che ti possa denunciare come fecero con Auriti. No? Allora, è vero, ma Auriti però aveva una moneta vera, che era il SIMEC. Noi invece abbiamo una cambiale. E la cambiale di per sé è legale. E' legale, quindi, qualcuno che gli venisse in mente di andare a denunciarti, fa un autogol perché che cazzo vuoi? E' una cambiale che io avevo messo a lui. Che vuoi? Allora, è vero, è vero, è vero, è vero.